Buonasera a tutti, come state? State bene? Sì, alcuni abbiamo già visti questa mattina ed è molto piacevole ritrovarsi. Allora, io prendo il mio libro. Mi raccomando poi dopo ci dice dove è il banchetto per comprarli, per firmarli. Mi raccomando. Tutti a guardare. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a Ibla. Buonasera. Questa è l'ultima giornata di A tutto l'Uma. Buonasera, dottor Colombo. Ah, credo che abbiamo... No, c'è un microfono. Altrimenti non va nella registrazione. Beh, no, perché sì. Potrei parlare così, mi sentite tutti. Allora, io sono Giovanna Reanda, sono una giornalista di Radio Radicale. Tra l'altro ringrazio la mia ammintente perché noi stiamo registrando e quindi ritroverete poi questo appuntamento. Chi volesse, chi desiderasse rivederlo, lo trova poi sul sito di Radio Radicale. Buonasera, dottor Giordano. Allora, anticostituzione. Allora, anticostituzione, come abbiamo riscritto, in peggio, i principi della nostra società? Allora, intanto la primissima domanda, lei, ma lo sanno tutti, non c'è bisogno di ricordarlo, insomma, lei è stato un magistrato anche particolarmente famoso, insomma, comunque. E nessuno si ricorda più nessuno. E nessuno si ricorda più, insomma. Vi ricordate invece, immagino, no? No, sono passati tanti anni, eh. Eh, vabbè, però questo applauso sta ad indicare che invece, per quanto siano passati tanti anni, insomma, mi ricordo c'è. Mi ricordo c'è. Lei adesso ha dedicato invece questa parte importante della sua vita alla divulgazione, lei fa corsi, seminari, va soprattutto nelle scuole. Quindi, diciamo, ha scelto di mettere a servizio questo suo, questo che è stato un lavoro per lei, no? Certo. E tutta questa sua conoscenza. La domanda che le volevo fare, visto che questo è un testo sulla Costituzione, uno si potrebbe domandare, no, ma se ne sentiva il bisogno di scrivere un libro sulla Costituzione, visto che, insomma, la Costituzione è già di per sé, insomma, un testo densissimo. Ed è poi, tra l'altro, questo lo diciamo perché quando poi lo aprirete ve ne accorgerete, ovviamente non sono presi in considerazione tutti gli articoli della Costituzione, ma quelli che sono presi in considerazione hanno questa peculiarità. Da una parte c'è il testo dell'articolo della Costituzione. Quindi, all'articolo 1, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e a fianco c'è un altro testo che mette specialmente con un carattere grafico diverso quello che in realtà le persone, non posso dire noi perché magari è improprio, però diciamo quello che la gente interpreta il testo stesso. Quindi, per i più addetti all'argomento, non stiamo parlando solo della dialettica fra Costituzione materiale e Costituzione formale, ma stiamo parlando proprio di come gli italiani intendono gli articoli della Costituzione, o meglio, come li vivono, come li interpretano, quello che pensano di questi articoli. Anche probabilmente senza nemmeno conoscerli, perché adesso poi ci entriamo in questa specificità. La prima domanda è, dottor Colombo, ma perché ha scelto di scrivere un libro così? Buonasera, buonasera, grazie. Scusate l'ho fatta lunga, ma se no non ci capivamo. Sì, sì, ma adesso vi faccio un esempio che così capiamo ancora di più, cioè per chi ha proprio bisogno degli esempi. Buonasera, allora prima di dirvi perché ho scritto, vi faccio l'esempio, giusto per capirci. Mettiamo che ci sia un cartello di divieto di sosta con sotto una fila di macchine. Il cartello dice è vietato fermarsi qui, ma le macchine ci sono. E allora io di fianco al cartello di divieto di sosta ho messo qui è permesso fermarsi. Ecco, ho restritto la Costituzione in questo modo. Di fianco a quel che ci sta nella Costituzione c'è quel che facciamo noi. E io lo dico quel che facciamo noi perché ogni tanto succede magari anche a me di fare delle cose, di mettere tra virgolette la macchina in divieto di sosta. Magari per distrazione delle volte. Magari per un'altra ragione che è quella che mi ha spinto a scrivere. E qual è quest'altra ragione? E' che la nostra Costituzione è intervenuta nella storia su una cultura che era completamente diversa. Non soltanto per via del fascismo che è finito poco prima che si iniziasse a scrivere la Costituzione, ma proprio un niente, sotto la linea gotica nel 43 a settembre, sopra la linea gotica nel 45 ad aprile, hanno cominciato a scriverla nel 46 a giugno. Non soltanto per via del fascismo, che ha esasperato una situazione che esisteva prima. Insomma, non è che le donne votassero prima del fascismo, hanno smesso di votare col fascismo. Non è che, insomma, anche prima del fascismo c'erano i titoli nobiliari, per dire, no? Era tutta una scala, la società. La società era basata sulla discriminazione. Era, possiamo dire tra virgolette, ma mica tanto. Era giusto discriminare. E arriva la Costituzione e rovescia. Rovescia dice no, no. Tutte le persone sono importanti tanto quanto le altre. Ragion per cui è bandita la discriminazione. Qualsiasi differenza che caratterizza ciascuno di noi e che riguarda il genere, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali, alle quali magari non facciamo tanta attenzione, ma uno è alto, uno è basso, uno è molto in carne, un altro è magro, uno è sano, l'altro è malaticcio, uno è stato promosso alla maturità con magnifici voti e un altro invece, beh, l'ha fatta tre volte e poi è diventato un influencer e guadagna un sacco di soldi. Boh, non lo so, perché succede anche questo. Eh sì, ecco, tutte queste differenze non possono creare discriminazione. E voi provate a immaginarvi, no? Inserire un modo di stare insieme in una società così abituata all'opposto. Chi ha scritto la Costituzione lo sapeva, tanto che il secondo coma dell'articolo 3, io ho parafrasato il primo coma, dice, è compito di tutti noi rimuovere gli ostacoli che rendono non vera la prima parte dell'articolo. La Costituzione parla costituzionalmente e quindi i termini sono diversi, però la sostanza è questa. E noi abbiamo stabilito quel che deve essere, quel che è necessario essere e adesso bisogna che lo costruiamo. Eh, sono passati 75 anni e dopo 75 anni, per via delle esperienze che ho fatto, io ne ho compiuto tra poco il 77. Sono nato, dai, ho un vezzo, però lo ripeto, io ho aspettato tre settimane a nascere, dal 2 di giugno, per essere sicuro di nascere in una repubblica. La fatica, eh? Anche per mia mamma. Eh, 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 sì, soprattutto, no, no. E proprio la constatazione di quel che succede, di esperienza, appunto, avendo quasi 77 anni, ne ho fatta nella vita. E facendo il magistrato, ma non soltanto quello. Sono 16 anni che mi sono dimesso dalla magistratura e anche dopo vedere, non lo so, per esempio, com'è la scuola. E poi ogni tanto, insomma, uno ha bisogno delle cure sanitarie. E vabbè, siccome forse è necessario essere un pochino stringati, eh, nelle risposte mi fermo qui. Sottolineando, però, che io credo che sia necessario, e lo dico alla fine del libro, perché noi possiamo osservarla, la Costituzione, sia necessario capirla. E per capirla, bisogna mettersi nell'ottica di chi l'ha scritta. Questo qua poi ne parliamo dopo. E secondo lei, gli italiani l'hanno capita? La Costituzione. È estremamente difficile capire una cosa che non si conosce. E la stragrande maggioranza degli italiani non conosce la Costituzione. Io non voglio fare esperimenti, anche perché poi vi arrabbiate, non comprate più il libro. A me interessa che lo leggiate, più che lo compriate, che lo leggiate. Però, però dai, lo sappiamo, eh, che abbiamo dei ricordi molto lontani. D'altra parte è abbastanza difficile che uno d'iniziativa pensi di leggersi la Costituzione. E non è che le istituzioni facciano tanto. Giusto, il Senato pubblica una Costituzione che vende un euro. Però bisognerebbe diffonderla, bisognerebbe... Vabbè, lasciamo perdere, semmai ne parliamo poi. Non è sufficiente leggerla comunque. Perché la Costituzione è un sistema dove quasi tutto è in coerenza con il resto. E se non si riesce a entrare nel sistema, non so, per dire, no, perché, articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. E perché tutte le persone sono importanti come le altre. E perché l'Italia è una repubblica democratica? Perché tutti sono, usiamo una volta il termine della Costituzione, sono degni tanto quanto gli altri. Se soltanto una parte della cittadinanza fosse degna, e allora dovrebbero governare soltanto quelli. Non sarebbe una democrazia. Ma come succedeva prima, no? Prima erano considerati degni soltanto i maschi e votavano soltanto i maschi. E prima ancora soltanto i maschi abbienti e votavano soltanto i maschi abbienti, no? E perché le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità? Sempre perché ciascuno di noi è degno, è importante. Ecco, se non si capisce il quadro e non si fanno questi collegamenti interni e poi ci si perde e perdendosi si fanno delle fratture e allora si perde la coerenza complessiva e va a finire che quel che un po' ci dà fastidio, ma magari anche di pelle, no? Per via della cultura che abbiamo assorbito per millenni, quel che ci dà fastidio non lo guardiamo neanche. Ci scambiamo il microfono. Questo passaggio sulla dignità o sulla eventuale indegnità... Mi sento messo un po' in mezzo. Capita ai pubblici ministeri ogni tanto. Dai. Mi autorizza a leggere la chiosa di Gerardo Colombo sull'articolo 48 della Costituzione. L'articolo 48, lo ricordo a me stesso, parla degli elettori. Dice che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce i requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Questo è stato introdotto successivamente, ovviamente. A tal fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle Camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale. Qui la Costituzione dice che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale. Gherardo Colombo dice chiosa quest'ultimo comma dicendo inderoga all'articolo 3 cioè al principio di uguaglianza il diritto di voto può essere limitato per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. E poi aggiunge la condizione di cittadino è stabilita con legge ordinaria anche in contrasto con i principi facilmente desumibili dai principi fondamentali. Ecco l'ironia di Gherardo Colombo sulla cittadinanza. Cioè noi nel nostro sistema abbiamo un diritto alla cittadinanza molto variegato e rarefatto ma attraverso la norma che ha dato agli italiani all'estero il diritto di voto si è come dire inserito il principio ius sanguinis non tanto ius soli cioè votano gli italiani perché figli di italiani ancorché residenti all'estero ma se c'è qualcuno che è nato in Italia ma non è figlio di italiani deve aspettare 18 anni il compimento del diciottesimo anno di età per avere questo se poi è adottato deve aspettare 5 anni e via dicendo. Su questo punto tu fai delle considerazioni a proposito della indegnità morale di cui parla la Costituzione in caso di revoca della cittadinanza e soprattutto della confusione che si è creata come diritto alla cittadinanza. Infatti infatti qui ci sono tante cose da dire purtroppo non abbiamo tantissimo tempo ci sono tante cose da dire a proposito del diritto di voto perché ci sono questi aspetti e ce ne sono altri che entrano in un quadro complessivo in un discorso complessivo io oltre a mettere gli articoli uno di fianco all'altro quello vero è formale però vero come forma perché sta scritto nella Costituzione è quello che invece noi seguiamo oltre a questo confronto ho poi scritto un commento ho spiegato perché ho scritto queste cose qui e allora l'articolo 48 è un articolo anche quello è un articolo centrale perché dice chi partecipa alla democrazia chi è il popolo il popolo sono i cittadini e i cittadini chi sono cioè come facciamo a individuare i cittadini prima erano ragioni di genere ragioni di censo e così via secondo una tradizione millenaria chi ha fatto la rivoluzione francese e pensava che i cittadini potessero essere soltanto i maschi e qualche donna che ha alzato la testa la testa l'ha persa capite che si tratta di stabilire chi è poi il popolo e come si stabilisce chi è il popolo attraverso il riconoscimento della cittadinanza perché è ovvio che una limitazione deve esserci non è che uno che è nato in Australia vive in Australia e non verrà mai in Italia può eleggere i rappresentanti coloro che gestiscono coloro che gestiscono la cosa pubblica ecco però dalla Costituzione prima di questa modifica beh secondo me si traevano due principi di carattere generale che avrebbero dovuto a mio parere indirizzare il legislatore il primo principio riguarda insomma lo possiamo tirar fuori non soltanto dall'articolo 3 ma dall'articolo 2 dall'articolo 13 dall'articolo lasciamo perdere non voglio nominarveli tutti vi dico soltanto che l'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non del cittadino e allora bisognerebbe fare in modo che coincidessero questa espressione uomo con l'espressione cittadino e se leggiamo la Costituzione come sistema e vediamo chi è il cittadino il cittadino è chi vive qui stabilmente vive qui stabilmente e se ha un reddito paga le tasse è quello lì il cittadino no? dalla Costituzione si trae anche un principio che non lo so forse non piace soprattutto in questo periodo per quel che riguarda la legge elettorale ma in ogni caso adesso stiamo parlando della cittadinanza beh il cittadino dovrebbe essere chi stabilmente è a relazione con tutti gli altri soprattutto in un momento in cui era difficile che stabilmente vivessero in Italia persone straniere no? quindi l'idea è che lo straniero è quello che sta a casa sua e il cittadino è quello che sta qua e allora è proprio scritto tra le righe della Costituzione non è espresso ma è scritto tra le righe che la cittadinanza è una condizione che riguarda la fattualità non è una condizione che riguarda la discendenza lo si vede lo si vede lo si vede guardando un pochino tutto la salute l'istruzione e sono 4 o 5 gli articoli che fanno una distinzione tra cittadino e straniero quello che sicuramente ha una influenza decisiva è proprio questo qua no? l'articolo che dice che l'articolo 16 che dice che i cittadini hanno il diritto di muoversi liberamente nel territorio dello Stato beh insomma lo vediamo che di fatto è applicato anche agli stranieri purché siano riconosciuti come regolari nel nostro territorio quasi no? perché c'è comunque la dichiarazione di ospitalità ci sono queste cose che era una cosa che riguardava però durante il terrorismo anche i cittadini beh lasciamo perdere sarebbe un discorso fin troppo lungo e e allora delle volte sembra anche di essere così tornati ai tempi della rivoluzione americana quando i coloni del Gran Bretagna che vivevano negli Stati Uniti a un certo punto hanno detto fermiamoci un attimo voi ci fate pagare le tasse e però non ci consentite di scegliere coloro che poi i soldi che arrivano dalle tasse amministreranno a prima della rivoluzione americana no taxation without representation e noi siamo così perché ci sono milioni di persone che lavorano in Italia io adesso non mi ricordo esattamente quanto del pile è prodotto da non cittadini il 10% e capite che il 10% dei voti e perché no? perché no? mentre può votare un signore che vive in Argentina piuttosto che negli Stati Uniti in Australia in Nuova Zelanda eccetera e che in Italia non è mai stato e questa secondo me è un'assurdità che proprio confligge con la Costituzione per via di una legge che sta fuori perché non è una legge non è necessaria una legge costituzionale per stabilire chi è cittadino e chi no primo e lo stesso a mio parere vale anche per la legge elettorale per il sistema elettorale noi abbiamo un sistema misto e soprattutto lo cambiamo molto spesso sì 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 continuiamo a cambiarlo è il sistema che discende dalla Costituzione è il proporzionale e nessuno può essere escluso cioè è necessario che tutti abbiano rappresentanza io mi ricordo nell'89 ero in Inghilterra a cercare di così ero già grande però a scuola all'inglese non è che si studiasse ai miei tempi tanto e quindi ero a cercare di incrementare di implementare e c'erano le lezioni e c'erano i verdi che avevano il 15% di voti e neanche un seggio in Parlamento perché essendo un maggioritario secco il loro e arrivano sempre o secondi o terzi o quarti non più di quarti credo che fossero al massimo quattro i partiti il 15% della popolazione non aveva rappresentanza noi siamo invece noi viviamo in un paese in cui la costituzione è includente la costituzione tende a non escludere nessuno e allora qui non sono soltanto i cittadini perché ai cittadini piace che sia così non tutti eh ma addirittura diventa anche la legge che peraltro per essere applicata ha comunque bisogno del consenso e allora l'articolo 48 è uno di quelli che in qualche modo hanno una qualche sono una pennellata storta nel quadro della costituzione una qualche incoerenza anche per quel che riguarda gli altri aspetti la indegnità civile dove vado a trovarla l'indegnità civile cioè la costituzione parla di indegnità civile ma voi andate a vedere a cercare di documentarvi che cos'è l'indegnità civile e lì risente molto dei tempi e secondo me adesso non vorrei essere fulminato qui da un fulmine c'era sereno è una cosa che riguarda anche la chiesa questa voi non lo so se vi ricordate i tempi in cui la donna soprattutto d'altra parte ci sono voluti anni perché venisse cancellato dal codice penale l'adulterio femminile perché quello maschile non era punito eh sì ma il delitto d'onore l'unica differenza è che l'uomo può ammazzare anche la figlia mentre la donna no però nell'immaginario collettivo che non è immaginario perché succedeva e continua a succedere così soprattutto ebbè erano gli uomini che ammazzarono le donne e allora erano loro che usifruivano di questo trattamento allora questa indegnità morale io sono dell'idea e scandalizzo qui sicuramente che il voto non potrebbe essere negato a nessuno perché dobbiamo metterci d'accordo se tutti siamo degni tutti siamo degni non è che la dignità si perde tanto che è giusto l'articolo 27 dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità io sarei ma fermiamoci qua perché sennò vi scandalizzo troppo eh sì secondo me il diritto di voto non potrebbe non poter essere tolto a nessuno i problemi stanno prima i problemi sono dei problemi di formazione della persona è necessario noi nasciamo liberi dice la dichiarazione universale dei diritti umani che è vero e non è vero ma pace nasciamo liberi nel senso che non abbiamo un padrone però la nostra libertà è e dobbiamo costruircela perché quando nasciamo siamo tabula rasa e è il nostro percorso quello che ci consente di arrivare alla possibilità alla capacità delle volte di scegliere se lo sapevo non lo facevo se l'avessi saputo non avrei fatto così e che tante volte diciamo vuol dire ho fatto una scelta sbagliata perché non avevo la conoscenza per poterla fare e allora è lì il problema è dignità civile indegnità civile è lì il problema è un problema che sta prima e sotto questo profilo insomma io direi che le carenze sono notevoli ti ho risposto abbastanza grazie fossimo stati il periodico senta adesso qui ci sono due possibili strade perché io ovviamente sono una giornalista quindi per me l'articolo 21 è sicuramente un articolo centrale però anche l'articolo 27 che lei ha appena citato che dice tra l'altro appunto le pene non possono consistere in trattamenti che poi anche la corte di giustizia europea insomma ha poi sciolto in pene disumane degradanti però mi stava venendo in mente una una riflessione anche molto su così scendiamo anche magari su dati di cronaca lo so che non rientrano nel suo libro però approfittiamo del fatto che lei è qui e quindi magari ci può ci può anche dare la sua opinione ci sono dei fatti di cronaca molto che scuotono moltissimo e ferati non solo perché ovviamente ci sono delle vittime ad esempio il bambino diecinque anni che è morto in questo dopo questo che sembrerebbe adoperiamo un condizionale perché è d'obbligo un gioco assurdo di questi giovani a loro volta giovani perché insomma molto giovani ventenni youtuber allora due domande da una parte quanto lei diceva bisogna conoscere bisogna essere in grado per poter scegliere vabbè in Audi diceva conoscere per deliberare bisogna essere in grado di sapere che cosa si sta facendo la propria scelta del resto scusi anche però il diritto dice questo non si è imputabili o comunque punibili o c'è comunque un attenuante se non si è in grado se non si è capito per esempio esattamente che conseguenze ci sarebbero state dopo un determinato aver compiuto determinato atto però invece io la domanda la volevo fare sempre tornando alla domanda iniziale gli italiani questa costituzione non la conoscono non la conoscono magari la conoscono ma non la capiscono e allora dov'è il problema? l'educazione l'insegnamento la scuola la famiglia perché qui alla fine sul banco degli impoteti ci sono finiti un po' tutti assolutamente tutti ci sono finiti nel caso specifico che stavo ricordando perché comunque a partire dal mezzo il web il web che in realtà è un'opportunità è una tecnologia la sappiamo usare sappiamo insegnare ai nostri ragazzi ad usarla può diventare un'opportunità o invece diventa una condanna? è qui è un problema perché secondo me è sempre la cultura cioè il punto di partenza è quello è il modo di di pensare alle relazioni umane e io credo che noi stiamo vivendo in un periodo di di forte nichilismo almeno tendenzialmente dove non esiste distinzione tra bene e male no? adesso ammesso che sia tutto come ci viene raccontato perché sarebbe anche interessante prima di dare un'opinione andare a vedere esattamente qualche successo però facciamo finta che sia successo esattamente così magari è successo così come ci viene raccontato ma magari invece no chi lo sa cosa succede? a me preoccupa ovviamente il fatto che attenzione è comunque un fatto non è la persona che l'ha commesso perché quella è una fotografia in ogni caso di una vita e allora cominciamo a fare delle distinzioni sotto questo profilo e quella è un atto è una fotografia di qualche cosa che comincia va avanti e va avanti fino a quel punto primo secondo a me ha molto molto così preoccupato quel che è successo dopo e cioè che questa azione abbia provocato l'aumento di followers seguaci di questi ragazzi ma credo che abbiano raddoppiato i loro seguaci nel giro di niente e cosa vuol dire questo? cosa vuol dire questo? secondo lei perché sono diventati il doppio perché non c'è distinzione perché non è non è non è importante la vita umana oggi non conta niente dai no lo sappiamo che non conta niente non conta niente sono affogati sembra 600 persone ma ci è importato qualche cosa eravamo impegnati in altro per carità però ci è importato qualche cosa anche prima però no no siamo sempre impegnati voi siete maligni e state pensando delle cose che noi eravamo impegnati voi state pensando a Berlusconi pensavamo no no eravamo impegnati in altro perché noi siamo impegnati in tante cose siamo impegnati non lo so c'è il calcio piuttosto che c'è ma quante cose ci sono che ci distraggono ma c'è anche l'aperitivo se volete e che sono delle cose anche quelle che sono importanti perché sono momenti di convivialità sono momenti in cui si sta insieme eccetera poi ci sono anche dei fatti che sono dei fatti che sono storicamente apprezzabili però più passa il tempo e più diventiamo tutti quanti nichilisti un pochino secondo me per via di questi mezzi no perché noi guardando su qua vediamo delle atrocità incredibili finte e delle atrocità incredibili vere e tendenzialmente va a finire che non facciamo più distinzione in un periodo di forte nichilismo che cos'è che conta apparire farsi vedere e tutti i mezzi sono buoni per farsi vedere e allora siccome la vita non conta più mica tanto no io sono quasi sicuro che se oggi facessimo un referendum per la modifica dell'articolo 27 che all'ultimo comma dice scusa la pena di morte ebbene non lo so come andrebbe a finire a proposito del valore della vita che invece per chi avrebbe secondo me almeno da essere il destinatario di attenzione perché la vita non la vuole più deve essere costretto a vivere comunque e siccome la vita non vale più allora per farsi vedere va bene tutto ma va bene proprio tutto 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 e secondo me non abbiamo ancora non abbiamo ancora toccato il fondo su questo allora è sempre lì poi il nodo è sempre quello del cercare di coltivare poi che dice la Costituzione quando dice che tutti noi siamo degli cioè è la considerazione dell'altro la considerazione della anche della sofferenza dell'altro a me veniva in mente un capitolo di Dostoievski che si chiama Ribellione il libro è i fratelli Karamazov beh un po' d'aria secondo me fa bene perché salvo i bicchieri Ribellione è il capitolo che precede il grande inquisitore e che dà una risposta a questa domanda terribile di Ivan sull'esistenza del male perché esiste il male che arriva a farti dire alla fine beh insomma perché si arrivi all'armonia e cioè perché il mondo sia pacificato alla fine è necessario passare attraverso la sofferenza e in particolare la sofferenza dei bambini e beh io restituisco il biglietto restituisco a Dio il biglietto d'ingresso il punto è quello lì il punto è della educazione al vedere al sentire l'altro perché qui sono tutti diventati l'altro è diventato un estraneo cioè lo è sempre stato perché la nostra storia è questa la nostra storia è una storia di guerra è una storia sono andato a rileggermi recentemente qualche cosa sulle due bombe atomiche no è un cinismo secondo me è difficile oggi no che cinici siamo chissà quanto ma difficilmente comprensibile davvero la nostra è una storia di omicidi quante vie ci sono in tutte le città dedicate a persone che hanno dedicato la loro vita a ammazzare gli altri per lo scopo più grandioso se volete più eh sì è Corso Garibaldi è Napoleone no è Piazza Giulio Cesare eccetera eccetera e allora noi già siamo disposti in un certo modo verso gli altri e noi adesso stiamo vivendo un periodo particolarmente drammatico in cui non c'è neanche bisogno di andare a cercare una scusa perché Napoleone le sue scuse le trovava è così come le trovava Giulio Cesare è così come le trovava chiunque Garibaldi eccetera perché c'erano questi c'era proprio questo scollamento dal considerare la persona e vedere degli ideali che magari qualche volta si intrecciavano perché Napoleone visto che non sta in Italia e non delle cose buone le ha fatte ha emancipato gli ebrei per esempio i codici e però la campagna d'Egitto è costata qualche milione di morti per dire allora noi oggi non abbiamo neanche bisogno di andare a cercare delle scuse no non ci poniamo il problema non lo vediamo io sto parlando sto dicendo noi in generale poi magari qui nessuno ha perso ha perso il senso dell'importanza della distinzione tra il bene e il male però guardate che la nostra società è fatta per creare confusioni insomma il nostro stare insieme io quando quel che facevo da magistrato ho fatto sempre penale l'avessi fatto da privato avrebbe costituito reato tutto tutto quello che facevo o quasi eh sì metti in prigione una persona e sequestro di persone intimi a un test di presentarsi perché altrimenti lo mandi a prendere dai carabinieri è violenza privata sequestri un oggetto è furto salvo che non lo faccia con i carabinieri che allora è rapina aggravata dal numero delle persone e dall'uso delle armi e così via eh sì la perquisizione è violazione di domicilio eccetera cioè noi siamo orientati a categorizzare il male a seconda della paternità il male si distingue a seconda di chi lo fa e se lo faccio io è bene e se lo fai tu è male ecco adesso si è perso anche questo una distinzione tra il male e il bene non esiste salvo che forse in alcune occasioni tipo vabbè lasciamo perdere in alcune occasioni e allora facciamo una grandissima fatica noi e facciamo una grandissima fatica perché ci viene quasi spontaneo di mettere il mostro in prima pagina per esempio e ci mette ci viene quasi spontaneo io quante volte leggo sentenze delle espressioni che secondo me sono veramente non sono costituzionalmente orientate quanto alla descrizione dei fatti e delle persone cose da gran gugnol tese tese a impressionare tese a scatenare la voglia di vendetta collettiva che è una cosa che tra l'altro mi fa pensare a René Girard e all'esigenza di trovare un capo espiatorio però poi andiamo andiamo anche un pochino fuori dal seminato quindi mi fermo qui anche perché parlo troppo dai ditemelo che parlo troppo noi abbiamo poco ancora vero dottor Giordano come siamo messi beh a questo punto perché la piazza giustamente adesso poi subito dopo c'è un'altra presentazione quindi vabbè però non possiamo potremmo resistere in armi siamo tanti siamo tanti sì è quello che ha capito tutto esatto una battuta conclusiva dando la parola poi a Gerardo per questo l'Italia ripudia la guerra o ripudia le armi ma lì il discorso ricominciamo un'oretta no sì ma perché il discorso vedete il discorso è complicato e secondo me bisogna leggerla tutta la Costituzione allora cominciamo a leggere l'articolo 1 scusate 11 era accaduto un 1 nel frattempo l'articolo 11 che dice l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli alla libertà agli altri popoli e come strumento di composizione delle controversie internazionali e si ferma lì cioè ripudia quella guerra lì e però non ripudia sempre la guerra perché c'è un articolo non me lo ricordo perché siccome a me non piace la guerra che dice che il Parlamento dichiara lo stato di guerra e c'è l'articolo che credo sia il 52 se mi ricordo bene e che dice che è sacro dovere del cittadino difendere i confini della patria e immediatamente dopo parla di forze armate e il presidente della repubblica anche il capo delle forze armate e allora com'è che la mettiamo l'Italia ripudia la guerra come strumento di aggressione e ripudia la guerra come tutte le volte in cui uno dice ah ma guarda ho ragione io no hai ragione tu no ho ragione io no tutti che dicono nessuno dice hai ragione tu e nessuno non si riesce a venirne fuori e allora vediamo chi è più forte no perché il gioco è quello vediamo chi è più forte io ti tiro una bomba tu mi tiro una bomba eccetera però la guerra difensiva no anzi anzi dice che la guerra difensiva è legittima e qui c'è un grande interrogativo che riguarda la difesa di chi la difesa di chi e allora io tenderei a così a mettermi sulla strada per una soluzione guardando ai rapporti interpersonali voi sapete che esiste la legittima difesa che una volta vedete noi siamo anche contraddittori in un modo incredibile perché il nostro il nostro codice penale risale al 1930 cioè è stato scritto dal fascismo io non riesco a capire l'ho applicato per 33 anni quindi anche io ho le mie responsabilità però a un certo punto pensando e ripensando non riesco a capire come una democrazia inclusiva possa usare ancora i principi generali e quindi l'imputabilità e il rapporto causale e l'elemento soggettivo del reato eccetera che sono stati che sono stati indicati dal fascismo questo non riesco a capirlo sono 75 anni che andiamo avanti e i miei ex colleghi sono meno qualcuno per carità ma sono tutti assolutamente indifferenti a questa osservazione va bene ma sono indifferenti anche i cittadini allora ebbè la legittima difesa del codice rocco del codice fascista è stata riformata molto in peggio nel corso della storia della repubblica perché mentre prima ebbè tu una persona potevi anche ammazzarla soltanto che se questa reazione fosse stato l'unico mezzo per salvare la vita tua adesso va bene anche per quello che hai in casa anche se sta scappando però se sta scappando nel senso che succede anche se sta scappando non che se ha questione di interpretazione ma qualche volta si viene assolti anche perché vabbè insomma lasciamo perdere allora facciamo il paragone io vedo una persona che sta accoltellando un'altra persona e l'unico modo per salvare quella persona che sta per essere accoltellata è cercare di impedirlo e se l'unico modo per impedirlo è magari tirare una schioppettata ebbè sono legittimato a farlo purché non ci sia altro mezzo e così via no? Io applicherei lo stesso criterio anche per quel che riguarda la difesa degli altri e quindi così come sono tenuto a difendere i sacri confini miei ebbè partecipando peraltro alla società delle nazioni adesso si chiama ONU ma mi piace chiamarla così in questo momento proprio per per guardare alla società non alla organizzazione delle nazioni unite ma la società delle nazioni ebbè quando uno è aggredito punto e virgola cioè non mi fermo qui perché l'altro tema riguarda le armi allora la pace è un valore ma un valore fortissimo per la costituzione tanto che compare nell'articolo 21 nell'articolo 11 e perché una volta lo chiamo e un'altra volta 21 perché sono stanco perché sono stanco nell'articolo 11 e che consente l'accessione di sovranità ai fini del mantenimento della assicurazione diciamo così della pace per via di questa disposizione che noi siamo nell'Unione Europea che siamo nella Nato eccetera 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 allora ci tiene molto ma perché perché è inclusiva e qui la domanda è ma se noi vediamo come soluzione delle 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 aggressioni soltanto la risposta attraverso le armi e allora lì non è che qualche cosa ci manca qualche cosa ci manca e a me sembra che la risposta che diamo sia soltanto quella tra l'altro prendendo da quella occasione per aumentare il budget dedicato agli armamenti e comunque alla funzionalità degli armamenti e quindi sto traendo risorse alle già scarse risorse che vengono dedicate in particolare in particolare dal mio punto di vista alla scuola e poi la sanità è un discorso diverso non abbiamo il tempo di parlare dell'articolo 32 adesso sto attento a dare i numeri sì sì no no vedi che mi accorgo faccio subito confermo confermo perché perché secondo me faccio un accenno soltanto l'esercizio di un servizio e cioè la garanzia di un diritto a mio parere non va tanto d'accordo con la creazione di un profitto e e succede così no allora il fatto di dedicare risorse alle armi a scapito della garanzia di diritti che tra l'altro renderebbero meno facile facile il ricorso alla guerra e beh secondo me non è tanto coerente con la costituzione grazie grazie al dottor Colombo grazie al dottor Bruno Giardano ci vediamo qua eh sì dobbiamo dobbiamo lasciare questo è il libro eh anticostituzione ecco è lì se volete ve lo firmo via grazie a tutti come vi dicevo interesserebbe molto che lo leggiate voglio sapere dell'abuso di ufficio e adesso mi chiede cioè non lo so guardi che si si arrabbiano e ci cacciano via in malo modo no allora secondo me allora io le dico una cosa il mio punto il mio punto di vista non è attraverso non è attraverso il sistema penale che si garantisce l'osservanza della legge però noi facciamo così e siccome facciamo così bisognerebbe trovare il sistema per per riuscire a dissuadere dalla commettere degli abusi nell'esercizio di funzioni pubbliche senza però con questo contribuire a immobilizzare chi le funzioni pubbliche esercita e adesso insomma va a finire che non fa più niente nessuno perché ha paura c'è l'amministrazione difensiva così come la medicina difensiva no si blocca tutto si blocca tutto ma questo non vuol dire allora che va bene tutto no è tutto quindi si può fare la prossima volta a tutto volume dell'anno prossimo grazie 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 Grazie.